Menfi è comodissima perché sei a un'ora da Palermo, un'ora da Trapani, un'ora da Agrigento perché diciamo è al centro rispetto a Trapani, Palermo e Agrigento e quindi può essere un punto strategico per visitare la Sicilia occidentale. Questo assunto io non discuto perché il jove va cambiare questo mercato, il jove sta cambiando questo mercato.